Mordo qualcuno? No, no, non ce l'ho, io vi faccio da backup, se volete. Mordo! No, è vivo! Come fai ad essere vivo? Ah, non ho fatto tutto. Come fai ad essere vivo? Come fai ad essere vivo? Speriamo sta roba. Oh, shit. Siamo distanti, siamo distanti uno dall'altro. Come se mi raccoglie tutto quella roba? Ma io ti ho visto venire colpito nel full name comunque. Non ci credo, io. Che cazzo è semmo? Non ci credo, io. Dov'è? Ma io ti ho visto il passato, io sono partito subito. Ma cosa è che non lo vedo? Ma io ti ho visto quella roba. Ma cosa cazzo? Facciate ripartire. E vi ho visto il tasto destro. Ma chi ha trovato la maschera? Gli altri? Nessuno! Non aveva la maschera! C'è una vera maschera, Yugo, vero? Via, 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 via! Perché non vedono il messaggio? L'abbiamo dovuto il testo destro! Edi qui dentro! Ma non ha la maschera! Chi è che ci ha ammazzato? Chiuditi dentro! Non abbiamo capito cosa sia su di testo! Perché Step lo sta partendo? Ah, con... Ster ti prego vai via, Ster ti prego vai via! E adesso scomporto in qualsiasi avessi messo la maschera! No, no, ragazzi, è pure quello sincronizzato! Sì, ma chi le monti soprattutto? Io sentivo Yugo parlarmi! Oh no, adesso muore, no? Ah, è stramorto, è stramorto! Ah, dicevo... Ah, ma... Nooo... Stai, ci sei cascato! Ci siamo cascati tutti! Ci siamo cascati tutti! Terribile quella roba! Comunque... A quanto pare possono spawnare a caso! Al tipus è vero! Non so cosa succederà! No! Zero! Zero! Che inculato! Nooo! Ho capito, ragazzi! Mi segreticherò per voi! Perché? Mettete il mio corpo! Mettete il mio corpo! Mettete il mio corpo! Che inculato! Per me lo faremo! È un ruón!